Procedure amministrative più semplici e digitali. Ci parla di SmartDoc? Perché SmartDoc? È un acronimo che sintetizza 5 caratteristiche del documento sicuro, manutenibile, archiviabile, raggiungibile e tempestivo. Con questo progetto, che terminerà entro il 2017, abbiamo unificato la gestione informatica dei documenti relativi all'area Sportello Unico, Asilo e Cittadinanza, già dematerializzati, ma in maniera difforme, a partire dal Click Day del 2007, in un repository specifico basato sul software Alfresco, che consentirà agli utenti di prefettura, di questura e alle sedi consolari un accesso sicuro e veloce alla documentazione legata alle pratiche. Il progetto si sta realizzando con le risorse dell'ufficio informatico, affiancato dai fornitori dei servizi di gestione infrastrutturale e dei servizi applicativi.